Non sono tardate ad arrivare le risposte a quanto dichiarato ieri a Reggio Calabria dal commissario straordinario per il piano di rientro del debito sanitario Massimo Scura. In città il commissario ha incontrato, nell'aula consigliare di Palazzo San Giorgio, i sindaci della zona, ovvero quelli che all'appello hanno risposto, solo una ventina su ben 97. Sono state affrontate a viso aperto tutte le questioni più pregnanti e le rivendicazioni, interpretando, affermano i sindaci, il grido di dolore dei cittadini che vedono progressivamente ridursi la qualità dei servizi erogati sul territorio. Durante l'incontro, comunque, non sono mancate frecciatine con lo stesso Scura che ha ribadito. Sulla sanità c'è qualcuno che vuole fomentare le folle. Un'uscita che non ha certo fatto piacere ai sindaci della Locride, impegnati in queste ore con la preparazione della grande mobilitazione in programma per domani mattina a Locride. L'intero popolo è stanco delle disattenzioni degli esponenti politici e delle gestioni commissariali, ha detto il sindaco di Locride, Giovanni Calabrese. Il primo cittadino della città di Zaleuco ha poi aggiunto, Scura, sei mesi fa, ha promesso Mari e Monti, senza poi concretizzare nulla. L'ospedale, ora come ora, è come se fosse morto. La manifestazione di domani mattina a Locride, al titolo più che mai semplificativo, giù le mani dall'ospedale, per Calabrese non è contro Scura, ma è un grido di dolore. Di stesso avviso è anche il sindaco di Gioza Ionica. Salvatore Fuda ha infatti commentato le dichiarazioni del commissario Scura, ribadendo che la mobilitazione non è rivolta contro un singolo, piuttosto contro la politica incapace di dare risposte positive alle esigenze di un territorio che ha più volte espresso tutto il suo malessere. Non vogliamo fomentare nessuno, ha detto Fuda, ma coinvolgere la partecipazione della vita pubblica ai cittadini. La comunità vive una situazione insostenibile. Decise le parole del sindaco di Marina Gioza Ionica, che alla luce delle affermazioni del commissario per il piano di rientro, ha consigliato allo stesso di mettersi al lavoro in maniera più seria e concreta per adempiere all'incarico che il governo gli ha affidato. Sempre auspicando, ha aggiunto Domenico Vestito, che tale compito non sia quello di smantellare ospedali. Quando i cittadini scendono in piazza, ha dichiarato il sindaco, è perché il livello di sopportazione è ormai giunto al massimo. Certo, a tuo nato vestito, fanno più comodo le manifestazioni al chiuso di una stanza, ma noi vogliamo che la gente partecipi ed esprima il suo malcontento. Le lezioncine del maestrino Scura, concluso il primo cittadino di Marina Gioza Ionica, ci lasciano indifferenti.